Lavoro bene comune. Creiamo nuovi posti di lavoro, promuovendo lavori utili e giustamente pagati. Riqualifichiamo i quartieri con maggiori difficoltà attraverso apertura e sostegno di nuove attività economiche. Formiamo e assumiamo personale per cure e aiuti domestici di vicinato. Sosteniamo il piccolo commercio e le partite IVA attraverso nuove infrastrutture pubbliche per i mercati, la riduzione mirata delle tasse comunali e l'incentivazione degli acquisti di prossimità e dell'economia circolare.